Si sono tenuti con successo gli esami di passaggio di grado per gli atleti del Centro Studi Karate sotto la guida attenta del maestro Vincenzo Ursino, cintura nera Sesto Dan. La sessione di esami, svoltesi in un clima di grande entusiasmo e partecipazione, ha visto la valutazione di un nutrito gruppo di karateka pronti a dimostrare le proprie capacità e abilità acquisite nel corso dell'anno. L'esame ha rappresentato un momento di grande crescita e grande soddisfazione per tutti i partecipanti che hanno potuto mettere alla prova il loro impegno e la loro dedizione alla disciplina. I numerosi passaggi di grado ottenuti sotto la dimostrazione del duro lavoro svolto del karateka e del loro costante impegno nel perseguire la perfezione e la tecnica e anche l'evoluzione personale. I risultati degli esami di karate, dichiara il maestro Ursino, stella al merito sportivo, non solo per un attestato di bravura tecnica, ma anche un esempio di tenacia, disciplina e perseveranza. Il karate insegna ai suoi praticanti valori importanti come il rispetto, la cortesia e l'autostima, contribuendo alla loro crescita personale e sociale. Hanno sostenuto l'esame con grande impegno e dedizione, dimostrando un'ottima preparazione tecnica e un profondo spirito di disciplina. Ecco i risultati degli esami. Cintura marrone nera, fortunato commisso, marrone quello di Agostino Tedeschi e Francesco Pino, quella blu e marrone è Salvatore Pulvirenti e Martina Varacalli, quella blu Nicolas Bennici, arancio e verde Agnese Giovanni Bebbu, giallo e arancio Marika Multari e Vincenzo Fuda, Reika Ferraro e Pietro e Sharon Condelli, Francesco Tedeschi, e invece quella bianca e gialla di Antonio Favasulli, Rocco Femia, Beatrice Gargiullo e Nayuk Kaur. Grazie a tutti.